Grazie, caro Presidente Nicola Mancino, delle parole pronunciate per salutare il mio ingresso in questo storico palazzo che sarà la mia sede per la durata del mandato conferitomi dai senatori, dai deputati, dai delegati regionali, ma che è e che deve essere sempre sentita per usare una felice espressione del mio predecessore Oscar Luciscalfaro come la casa di tutti gli italiani.